Benvenuti in un nuovo ambiente della natura. Vedete adesso siamo in questo ambiente meraviglioso collinare. Qui tutto cambia rispetto agli altri ambienti. Vedete queste colline molto dolci che ci sono nella pianura padana. Questi sono i Lessini praticamente. Sono una serie di colline che vanno dai Lessini ai Caleugani, quindi vanno dalla provincia di Verona fino a Padova. Sono le Prealpi. Sono quelle colline che hanno questa altezza, la collina va dai 200 ai 700 metri. Un ambiente preferito dall'uomo, non solo perché, come dicono sui libri di storia, l'uomo si costruiva le città, i paesi sulle colline per difendersi, per vedere sotto, per poter prevedere l'assalto dei nemici, ma soprattutto, io dico perché, in collina l'aria è più salubre. In basso in pianura vedete che ci sono questa nebbiolina, questa mefitica nebbiolina che oggi è anche ricca di smog. Un tempo la stessa nebbiolina era la nebbiolina dell'umidità, delle zanzare, della malaria, e già l'uomo primitivo sapeva di dover elevarsi su questa altezza perfetta, che va dai 400 ai 500 metri, che è perfetta per la vita dell'uomo. Non a caso Roma è stata fondata sui sette colli. I sette colli di Roma avevano questa altezza di 400 ai 500 metri, ideale. Se io scavo sotto l'humus di questi prati, trovo delle pietre basaltiche, vedete queste pietre grigie, nerastrex, che indicano l'origine di queste colline. Sono colline che nel Mesozoico si sono sollevate con delle eruzioni vulcaniche dalla pianura. Mentre nel Mesozoico, ai tempi del Goddana, del Pangea, pascolavano i dinosauri anche in queste pianure, nel frattempo c'erano queste grandi eruzioni vulcaniche. Si formavano questi che sono stati i lessini, i coliberi, ed è la ragione per cui, per esempio, ad Abono abbiamo l'acqua calda, perché in realtà l'acqua calda di Abono arriva da tutta una falda acquifera che viene riscaldata da questa zona che è comunque una zona vulcanica. Quindi dobbiamo anche distinguere quelli che sono questi colli vulcanici, che poi danno origine, naturalmente, a un terreno acido che favorisce il bosco di castagni, e li diamo a distinguere da quelli che sono invece i colli morenici attorno al lago di Garda, che sono dei colli calcarei, in cui c'è un terreno alcalino, la vegetazione è completamente diversa, e sono stati causati dalla discesa lungo le valli dei ghiacciai. Questo è importante perché la geologia, lo studio della formazione delle strutture, ci insegna anche le caratteristiche del terreno, e da lì capiamo le caratteristiche della flora che si verifica. Quindi c'è tutto un collegamento tra geologia, terreno, piante e poi medicina, naturalmente. Vedete questi tipici rilievi così collinari, proprio arrotondati, lievi. Qui un tempo c'erano i grandi boschi di faggete, c'era il faggio, la quercia, il castagno, tutti della stessa famiglia, tra l'altro, di piante. È completamente diversa la flora che vediamo in pianura, che vediamo in collina e naturalmente che vediamo in montagna. Qui siamo in un ambiente perfetto. Purtroppo l'uomo l'ha antropizzato, ha tagliato gli alberi, ha piantato vigne ovunque, ha piantato olivi, ha costruito case, e quindi rimane pochissimo di questa flora che già è cambiata in realtà col cambiamento climatico. Per esempio il castagno, che è tipico di queste zone, ha bisogno di un clima piuttosto umido e piuttosto caldo, e c'è stata invece in realtà una diminuzione dell'umidità in questi ultimi periodi storici, che ha favorito la quercia sul castagno. Perché qui c'è un continuo cambiare della natura. La natura si adatta, cambia, si segue i ritmi della natura, i ritmi cosmici, i ritmi climatici e così via. La natura si adatta perfettamente, quindi scompare l'olmo, diminuisce il castagno, aumenta la quercia. È un equilibrio perfetto. La natura vuole essere in armonia, in armonia con il clima, in armonia con l'inclinazione terrestre, in armonia con le macchie solari, in base con la composizione atmosferica. E in questa regolazione della natura c'è il ritrovare l'equilibrio, l'adattamento. Aumentano l'energia carbonica, aumentano le piante con le foglie, diminuisce e così. C'è tutto questo cambiamento. C'è stato il periodo del carbonifero, in cui alcune piante che vediamo piccolissime, che erano grandissime, sono andate piccolissime e così via. Quindi vedete questo ambiente, immaginate un grande bosco, un enorme bosco intricato, una flora pazzesca, fatta completamente diversa da quella che vediamo oggi. Quella che vediamo oggi è una flora dovuta alle mucche, dovute ai tagli, quindi questi ranuncoli che noi vediamo, questi trifogli, non sono in realtà, non è una flora della collina, questa è una flora della pianura, trappiantata in maniera artificiale in collina. In realtà qui è l'ambiente del bosco, del bosco latifoglie, del bosco collinare, un ambiente del tutto caratteristico, un ambiente che crea proprio una ossigenazione particolare e così via. Teniamo conto che comunque è l'ambiente rivalisco ideale per l'uomo. Se noi andiamo, se l'uomo va sui 1000 metri, 1500 metri, avrà un aumento della pressione cardiaca, quindi io tante volte nei miei pazienti che vanno in montagna devo aumentare la dose di rimedi antipertensivi, per esempio. Se andiamo troppo bassi d'estate la pressione invece cala troppo per il calore. In realtà in collina abbiamo la situazione perfetta, stupenda. 400 metri di altezza, regolazione della pressione. Abbiamo questa regolazione cardiocircolatoria e l'ambiente ideale per l'uomo. Tanto più ideale quanto più quest'ambiente è nella sua originarietà, ovvero quando ci sia una componente non solo di prati, ma anche di boschi.